Nome. Lulonda Fleet. Avvenimento. Incendio di Winnipeg. Numero vittime. 5. Luogo e data. Canada, 10 luglio 2011. Lulonda Fleet è nata nel 1971 a Norway House, Canada, da genitori violenti, alcolizzati. I litigi erano all'ordine del giorno, così come le botte. A volte, la situazione trascendeva così tanto, che la figlia maggiore della coppia, portava tutti i suoi fratellini e sorelline, ovviamente Lulonda compresa, in camera loro, chiudendo la chiave. Il peggio avveniva quando i genitori organizzavano festini alcolici con amici. Era in questi casi che la sorella maggiore di Lulonda, chiudeva tutti in camera, e se ne stava davanti all'ingresso come barricata. Come se non bastasse, Lulonda, all'età di 9 anni, dovette subire continui abusi sessuali da parte di un parente più grande. Raccontò tutto alla madre, ma fu accusata di essere una bugiarda. Provò così a dirlo alla zia, ma nemmeno quest'ultima le credette. Rimase, così, in silenzio, subendo stupri per chissà quanto tempo. Quando i genitori si separarono, il nuovo compagno della madre si rivelò ancor peggio del padre biologico. Iniziò anche lui a molestare la bambina. Insomma, Lulonda crebbe in un ambiente terribile, e non tardarono le conseguenze psicologiche. Nonostante ciò, era una studentessa con un ottimo rendimento scolastico. D'altronde considerava la scuola come un rifugio dall'ambiente domestico. All'età di 15 anni, iniziò ad uscire, a divertirsi, a bere. Ed incontrò anche un ragazzo, dal quale rimase incinta. Era giovanissima quando diventò madre, e l'impegno del figlio la portò a lasciare la scuola, fino al 1987, quando volle ritornare al liceo. A 18 anni, incontrò un uomo, e con lui si sposò quattro anni più tardi, a 22 anni. La sua vita iniziò a peggiorare. L'uomo la costringeva a bere, a fare uso di mariona, crack, ed eroina. Questi eccessi, rovinarono il matrimonio. L'uomo iniziò a picchiarla, e la gente non era per niente solidale con lei, la prendevano in giro chiamandola, occhi di procione, a causa dei lividi che il marito violento le lasciava sul viso. Finalmente, dopo svariate denunce, fu arrestato, per poi essere liberato. I due riandarono a convivere, ma gli atti di violenza erano peggiorati, fino a che si lasciarono definitivamente. Nel 2009 conobbe un altro uomo, un alcolizzato, ma fu comunque, come testimoniera lei stessa, la relazione migliore della sua vita. La donna finì per diventare anche lei un'alcolizzata, portando gli assistenti sociali ad intervenire, e portarle via i figli che aveva fatto con il suo compagno. Questo evento fu il colpo finale per Lulonda, la quale entrò in una profonda depressione. Le sue giornate erano caratterizzate dall'alcol, da svenimenti causati da quest'ultimo, dal dormire, fino a riniziare il ciclo il giorno seguente. Iniziò a diventare estremamente aggressiva, tanto che agli inizi del 2011 fu arrestata per aver aggredito il suo ragazzo. Fu rilasciata dopo tre mesi, e ricoverata, sotto osservazione, presso la pensione di Winnipeg, una casa per persone con dipendenza da droga e alcol. È il 10 luglio 2011, quando Lulonda, in preda all'Ira, decise di vendicarsi, senza sapere nemmeno lei contro chi. Forse contro la madre del suo ragazzo, contraria alla relazione tra i due. Diede fuoco all'ultimo piano della pensione. Come abbia fatto, è tuttora un mistero, tanto che vi è stata una lunga battaglia tra i suoi avvocati, e quelli della controparte, in quanto sostenevano che l'incendio era stato causato dalla struttura della pensione, non a norma, e successivamente, cercando di farla accusare di incendio colposo, e non doloso, per farle ottenere una pena meno severa. Ma alla fine la donna confessò di averlo fatto volutamente. Ponendo fine ad ogni tipo di dibattito. Quel giorno, le fiamme si propagarono in fretta. In un attimo, la casa era avvolta dalle fiamme. Fu una strage. I vigili del fuoco arrivarono quanto prima. Sei persone furono portate, d'urgenza in ospedale, e cinque rimasero uccise. Le vittime erano Norman Anderson, 22 anni, Maureen Harper, 54 anni, Ken Monkman, 49 anni, Dean Stranden, 44 anni, e Robert Laforte, 56 anni. La comunità di Winnipeg era sconvolta. L'assassina fu arrestata il giorno seguente, e ci è voluto un anno di dibattiti e processi, prima che confessasse. Gli psichiatri emanarono un rapporto clinico nel quale vi era scritto che Lulonda aveva un'intelligenza inferiore alla norma. Il tutto era causato da anni di sofferenze, abusi, traumi. Ma era comunque in grado di intendere e di volere. Il giudice disse che, anche tenendo conto della sua terribile infanzia, il crimine era troppo grave per poter effettuare uno sconto della pena. Fu così che, il 12 giugno 2013, Lulonda Flitt è stata condannata a 5 ergastoli, uno per ogni persona uccisa.